L'istituto scolastico Anna Frank di Bari si prepara a cambiare volto. Il cantiere di demolizione e ricostruzione è già partito. Oggi la scuola è stata svuotata completamente dalle sue suppellettili, tra cui banchi e sedie. Nei prossimi giorni la struttura, che ha ospitato generazioni di baresi, verrà buttata giù e ricostruita in sede con un investimento di circa 9 milioni di euro, grazie a un finanziamento del PNRR. I lavori si dovranno concludere entro il 31 marzo 2026. Nel frattempo i piccoli studenti saranno ospitati in altre sedi nelle vicinanze. Come noto infatti, dopo un lungo confronto con i genitori e i docenti della Anna Frank, nell'emore della realizzazione della nuova scuola per il prossimo anno scolastico 2024-2025, 12 classi di scuola primaria e 8 sezioni di scuola dell'infanzia troveranno ospitalità presso la sede dell'ex Municipio 2 in Stradella del Caffè, mentre 9 sezioni della scuola primaria saranno trasferite nelle aule al secondo piano della scuola secondaria di primo grado Tommaso Fiore in via Martin Luther King. Questo edificio nasce 50 anni fa come un edificio temporaneo in risposta al boom demografico. Quando poi ci siamo insediati, pur essendo una scuola molto apprezzata dal quartiere, era un edificio che aveva i suoi anni, un manufatto che aveva i suoi anni e che non rispondeva più alle esigenze della comunità scolastica. Quindi abbiamo provato una prima candidatura che finanziava in parte l'opera, un'opera costusa come vi ho detto, poi il bando del PNRR ci ha consentito di finanziare interamente l'opera e soprattutto di realizzare una scuola che fosse all'altezza dei parametri europei in termini di sostenibilità ambientale. Era un plesso unico, mentre adesso la scuola è a due plessi gemelli, un plesso unico su tre piani che ospiterà otto sezioni di scuola dell'infanzia e 16 sezioni di scuola primaria. Quindi al piano terra avremo la scuola dell'infanzia con anche le aule laboratorio, le aule gioco e con delle aule collegate poi all'esterno dove ci saranno degli spazi verdi. Invece ai piani superiori avremo la mensa, gli uffici amministrativi e poi tutte le aule della scuola primaria. Ci sarà anche una palestra e un luogo, una gradonata dove organizzare eventi, una sorta diciamo di aula magna per eventi e manifestazioni e sarà un edificio a zero emissioni, quindi con i pannelli fotovoltaici, con il recupero delle acque piovane e tutti gli impianti più moderni e più efficienti dal punto di vista tecnologico.